Musica Un finanziamento per mettere in sicurezza e riqualificare la scuola media Galvani. 2 milioni e 950 mila euro di fondi regionali progettati ed ottenuti dall'amministrazione Ferraioli. La scuola di Via Dante Alighieri versa in un'annosa precarietà strutturale che dagli anni 70 accoglie generazioni di studenti. Una scuola che diventerà migliore e soprattutto più sicura, quanto assicura l'assessore Barba. È un finanziamento importantissimo e se pensiamo che a fianco alla Galvani stiamo concludendo la scuola medio promolla, diciamo che per quanto riguarda le scuole del territorio anglese stiamo lavorando, l'amministrazione sta lavorando veramente benissimo. La cosa che più mi ha entusiasmato e in cui credevo veramente tantissimo era in questo finanziamento, perché 3 milioni di euro per una scuola sono tantissimi e quindi potremo veramente rifare da capo la Galvani o quantomeno metterla in sicurezza e renderla antisismica. Nella stessa area è in costruzione il secondo lotto del plesso Galvani o promolla, che l'assessore Barba assicura sarà presto consegnato agli alunni. Stiamo lavorando e quindi credo che per il settembre, per l'anno scolastico 2019-2020, sarà pronto anche il plesso o promolla. Via Dante Alighieri è ormai diventato un vero e proprio polo scolastico con problemi di viabilità, ormai sotto la lente dell'amministrazione comunale che cerca una soluzione ottimale. Studieremo insieme al comandante dei vigili urbani delle possibili alternative.